Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Piave TV che parla dei problemi della vostra salute. Come avevamo detto in passato abbiamo qui il nostro Giovanni Franchin che è il presidente di tutte le associazioni di diabetici della regione Veneta ma qui in questo momento rappresenta la nostra zona e quindi vogliamo sapere qual è il vostro sogno, il tuo ma anche quello di diabetici di qua. Grazie dottore. Io sono il presidente dell'associazione di diabetici Basso Piave. Cioè Basso Piave cosa corrisponde? Corrisponde a tutti i paesi della zona del Basso Piave quindi non siamo settoriali ma siamo allargati al massimo. Certo l'associazione ha molte difficoltà di poter reperire fondi eccetera però con un po' di buona volontà e con pochi soldi si possono fare anche tante cose. Una di queste, la prima che stiamo cercando di fare assieme alla direzione della ASL è quella di mettere in funzione il webcar. Cos'è il webcar? Il webcar è una piattaforma informatica che da fatta la cura da parte del diabetologo entra nel sistema informatico e va a informatizzare tutte le farmacie, non solo quelle di San Donà ma dovrebbe informatizzare tutte le farmacie della regione Veneto. Quindi io potrò fra pochi giorni andare a prendermi le mie medicine sia a San Donà oppure anche a Rovigo, a Verona, senza avere bisogno di andare dal mio medico di base. Quindi il ritiro è immediato. Questo è un sogno che io sto curando da due anni ormai purtroppo in regione e nella zona di San Donà perché appunto avvenga. Un altro bellissimo progetto che abbiamo in mente però è abbastanza costoso. Ora vediamo se riusciamo a realizzarlo. Non è altro che acquistare un rettinografo. Il rettinografo viene a costare intorno ai 17-20 mila euro. Questo rettinografo serve a vedere il fondo dell'occhio dove si possono verificare la situazione delle vene, la situazione del cuore, la pressione alta arteriosa, possiamo verificare, e anche il fatto di avere il diabete. Possiamo verificare anche la funzione dei reni solamente facendo una fotografia al fondo dell'occhio. Però questo strumento ci permette di fare la fotografia senza mettere le gocce dilatanti nell'occhio che alla gente dilatta talmente la pupilla che per ore non vede più niente. Quindi questa è la nostra. Poi cosa vogliamo fare? Prendere il pulmino della ASL e ogni domenica fare il giro per ogni paese e fare prevenzione. Mentre durante la settimana questo strumento sta in ospedale, alla domenica esce dall'ospedale e va nei vari paesi a fare prevenzione. Questo è uno dei progetti che abbiamo e mi auguro che entro fine anno riuscire con l'associazione, con tutti i nostri associati, con la volontà della ASL, cercare di ottenere questo. Un altro grande ma immenso progetto è quello di avere un centro per la cura del piede diabetico. Purtroppo signori il diabete è una malattia che non sempre si vede. Ma quando voi vedete un piede che ha il fasciato eccetera, il 99% è diabetico. Cioè c'è una piaga che non riesce a chiudersi. Quindi quella piaga deve essere trattata da un esperto, deve essere trattata con mezzi molto avanzati in modo da permettere al sangue di affluire in quella parte malata, sangue buono, e portare via tutta quell'infezione. Questo è il nostro grande progetto che abbiamo in mente. Ecco, io ci posso aggiungere, oltre a fare questa terapia del piede diabetico, diagno eccetera, spero che in futuro si possa fare anche la prevenzione del piede diabetico. Come purtroppo adesso lo fanno solo in qualche centro in Emilia-Romagna. Cioè andare a controllare tutti i diabetici per il piede. Io sono d'accordo. Tenete presente che un esempio solo. Tempo fa c'era un signore che aveva sotto il piede una punta rossa, una puntina rossa. Sono andati a scavare e hanno trovato dentro una caverna. Quindi la malattia non è che esce superficialmente, anzi appena superficiale si vede e poi dentro incomincia a scavare. E in molti casi il diabetico, avendo non sensibilità ai piedi, trova, cioè lascia, porta avanti questa malattia senza curarla. E si raccolge molto tardi. Quando siamo più o meno vicini alla cancrena. Perché? Perché il diabetico non ha sensibilità sotto i piedi. Questo bisogna dirlo. Cioè vuol dire che sotto, che nelle parti inferiori, non è che circola molto sangue quel diabete. Bene, ringraziamo il nostro Giovanni Franchin che è indispensabile per la nostra zona. E noi ci rivediamo con un altro argomento la settimana prossima.